Buonasera signore e signori, benvenuti quest'oggi nel nuovo, nuovissimo episodio della nostra nuova guida che ho intenzione di praticamente iniziare adesso di Pokémon Rosso infatti torniamo alle origini, era un po' che volevo fare questa guida dato che mi mancava praticamente in tutto il comparto delle nostre guide mi sembra che una l'avevo appena iniziata ma poi non andò perché crashava continuamente la ROM e comunque sia, quest'oggi ci ritroviamo qua a giocare a Pokémon versione rossa per appunto Visual Boy Advance la prima cosa però che volevo fare è mettere la velocità del testo a 3, ok come potete vedere schermata praticamente spoglia, non c'è assolutamente niente ed ecco qua la grafica, praticamente in bianco e in nero sarà la maggior parte del gioco anzi credo il totale a meno che ti cambi di sfondo questo è stato il primo gioco che è uscito appunto in Italia almeno sui Pokémon perché comunque sia anche in Giappone è uscito Pokémon Rosso ma contemporaneamente è uscito Pokémon Verde che noi abbiamo avuto come Pokémon Blu quindi è stato il mio primo gioco dei Pokémon con cui ho appunto iniziato e qui al solito ci dice il Professor Rock, il vero maestro dei Pokémon ecco ci spiega un po' che questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon e qui troviamo un Nidorino come vedete gli sprite sono molto diversi da quello che siamo abituati a vedere e specialmente da quelli che siamo abituati a vedere su Pokémon X e Y comunque sia la prima cosa che ci chiederà è appunto di identificarci, di mettere il nome quindi possiamo mettere Rosso, Ash e Gigi ci ho sempre avuto questo Gigi, non so perché i sviluppatori hanno messo Gigi comunque sia potremmo chiamarci Rosso come appunto Red il vero protagonista della guida mentre in Giappone avevano Green che era appunto l'antagonista, sarebbe stato Gary l'antagonista di Ash, io però avevo in mente di fare una guida un po' differente nel senso di tentare di riuscire a catturare più Pokémon possibili e questo va bene anche se sarà veramente molto difficile però di chiamarmi appunto come Rosso, cioè Red il problema è che Red nella storia vera inizia con Charmander io però Charmander non mi piace, è molto forte però ecco, non lo voglio usare perché a me non mi è mai piaciuto e quindi metterò direttamente il nome Esci allora, ovviamente dovrò utilizzare Ed Esci88, perfetto, è arrivata anche un'email non ci sono presuppongo i numeri, no? ok e quindi, dato che Charmander non mi piace e comunque sia, per vari motivi lui lo chiameremo Blue, a questo punto non mi è mai piaciuto ho preferito optare per un'altra scelta che è, comunque sia, forse alcuni di voi lo soffranno il mio Pokémon preferito, ovvero Squirtle quindi ci rimpiccioliamo, arriviamo direttamente a casa nostra allora, boom, a Biancavilla, se non mi ricordo male e ci ritroviamo, appunto, all'interno della nostra camera questo qua è il Super Nintendo, credo che sia a Super Nintendo, bene andiamo, perfetto, ce l'avevo anch'io il Super Nintendo qua troviamo un computer che se lo accendiamo possiamo ritirare una pozione quindi, per chi inizia, si ritrova già al computer e magari per chi c'è andato, io mi ricordo, c'è andavo dopo un po' trovare una pozione e dire, ma che cos'è? e questa cosa, guardate gli sprite come sono fatti diversi, diversi comunque sì, una volta che scendiamo giù non ci sarà la nostra madre a parlare ma solo prima che parliamo noi ci dice, prima o poi tutti i giovani se ne vanno via di casa vai a parlare con il Professor Rock quindi, una volta uscita, eccolo qua questi saranno gli sprite e la città, di come ce la troviamo noi da questa parte qua, vi dico subito la prima cosa quando ero piccolino, mi ricordo, il mio cugino mi diceva sempre che si poteva attraversare sia ops, il microfono sia questa parte di qua, che quest'altra parte questa è la casa di Gary chiamata anche Blue potevamo attraversare queste due montagnette questi due alberi, non so, rocce utilizzando salto di Itmalli mi diceva che prendendo Itmalli imparava salto potevamo saltare di là e andare a catturare Mew ma queste erano delle cavolate che diceva comunque sia girando un po' ecco, un po' per Biancavilla abbiamo visto che questo è il laboratorio questa è la casa di Green ma la prima cosa che dobbiamo fare per avviare la storia è andare verso Nord perché arriverà il professor Ock ehi, non andare ed eccolo qua che arriva arriva da se solo, è automatico questo Ock è pericoloso nell'erba alta vivono i Pokémon selvatici hai bisogno di Pokémon che tu hai che ti proteggono fidati di me seguimi nella versione Jalla praticamente avrebbe catturato un Pikachu selvatico con Eevee mentre su Pokémon Blue è esattamente la stessa cosa credo che lo sia anche per Pokémon Verde anche se non ci ho mai giocato anche se ho visto che Dario Mochial ha comprato la versione verde originale in giapponese mi piacerebbe trovarla anche a me magari per collezione comunque sia una volta che entriamo all'interno del laboratorio troveremo Blue che ci farà appunto da Fido sceglitore dei tre Pokémon che vedete che sono nel tavolo dentro le sfere Poké comunque sia inizieremo per primo la scelta e questa è stata sempre una cosa che mi ha sempre disturbato dico perché devo scegliere io e il mio rivale prendere sempre il Pokémon che ce l'ha probabilmente più forte contro di me però vabbè allora in questo caso potiamo nella prima Poké Ball Charmander il Pokémon Lucertola ama luoghi caldi si dice che quando piove gli esca vapore dalla punta della coda qua si dice se vogliamo Charmander il Pokémon di tipo fuoco io ovviamente metto di no poi abbiamo Squirtle il Pokémon Tartagina dopo la nascita la schiena gli si trasforma in una conchiglia sputa potente schiuma dalla bocca metto no così a me ne faccio vedere anche i Bulbasauri il Pokémon seme lo sprite è forse quello fatto un po' meglio un seme raro gli è stato piantato sulla schiena alla nascita la pianta abboccia sboccia non abboccia mamma mia come leggo male e cresce con lui e si dice vuoi Bulbasauri un Pokémon di tipo Erma? no io sceglierò ovviamente ovviamente il nostro Squirtle perfetto esatto questo Pokémon ha veramente molta energia se prendevate Charmander vi dirà che è un Pokémon facile da acudire mentre per Bulbasauri vi dirà che è un Pokémon abbastanza difficile da acudire perché i Pokémon d'erba non sono ecco adattissimi per chi mi sia magari un Pokémon fuoco ecco diciamo che con gli acqua sono intermedi una volta scelto qua troveremo due Pokédex però ancora non è il momento che il professore ce li da e se tentiamo di uscire ovviamente arriverà Blue che ci dice proviamo i nostri Pokémon coraggio ti sfido quindi parte direttamente la sfida all'interno del laboratorio del professor Hawk oh perfetto Blue vuole lottare andiamo un po' manda Bulbasaur ovviamente vedete che gli sprite sono vecchio stile abbiamo i PS non ci sono nemmeno i punti esperienza comunque sia affrontiamolo Bulbasaur usiamo gli azioni stranamente anche più veloce di solito Squirtle era uno tra i più veloci però vabbè usiamo gli azioni ovviamente ci metteremo una vita perché è veramente lento questo gioco le texture e tutto il resto potrei usare la barra spaziatrice per mandare più veloce il gioco il problema che non si capirebbe niente sarebbe solo confusione e solamente per me che gioco ma anche per poche persone che comunque ci seguono sarebbe solamente una confusione assurda perché l'omino si muove a scatti in qua e là Bulbasaur continua a utilizzarci rugito ci sta calando l'attacco in maniera spaventosa noi continuiamo comunque sia con azione perché è l'unica cosa che possiamo fare potremmo usare anche colpo coda ma ecco non vale la pena utilizza di nuovo azione probabilmente perderemo questa prima battaglia come mi succede spesso perché ha usato sempre praticamente tutti i cosi io potrei però utilizzare una pozione oh io ho utilizzo una pozione per rifar prendere squirto la pozione che ci hanno dato prima dato che lui ha utilizzato solamente il rugito sta utilizzando solamente il rugito mi ha veramente rotto le scatole io gli spacco con azione dai il rugito di nuovo dai perfetto fallisce di nuovo azione boom dai guardate quanto gli stiamo togliendo cioè veramente è una cosa impressionante dai forse per altri 14 attacchi forse ce la facciamo non ancora non succede nulla ho meno 6 di attacco grazie comunque sia dopo che abbiamo sconfitto Bulbasaur Squirtle riceve 67 punti esperienza sale a livello 6 e appunto abbiamo battuto Blu Blu cosa non può essere era il pokemon sbagliato lui tenterà ovviamente di dire che il suo pokemon era sbagliato ma in realtà siamo noi più forti prende e quindi se ne va come vedete ci sono anche gli scienziati questo è Charmin è l'ultimo pokemon che gli è rimasto cioè pensatevo lui era un professore che ha tentato di finire il pokedex gli è rimasto soltanto un Charmin è scritto delle Bulbasaur e cosa fa lo affida a un bambino di 10 anni e dice completa il tuo pokedex comunque parlando subito con questo ragazzo al di fuori di Biancavilla ah stavo sbagliato prendendo il tasto sbagliato ci dirà che lui lavora al pokemon market di Smeraldopoli e ci dà un campioncino di pozione quella cosa che abbiamo utilizzato prima qua all'interno dell'erba alta possiamo incontrare i numerimboli pokemon tra cui Rattata e TJ Basta non nessun altro più avanti potremmo trovare ecco siamo fortunati anche Spiro mi sembra che era c'era una possibilità comunque sia minore di trovare Spiro e non PG comunque sia faccio per allenare adesso un attimino Squirtle per farlo arrivare almeno ad imparare bolla ma ancora non lo impara perfetto saliamo di nuovo ok un altro incontro disdicevole vediamo un po' che è un Rattata come al solito a livello 2 questa volta e speravo veramente di poter giocare a poco X e Y ma purtroppo appunto lo sapete per ora non se ne parla né di rom né di comunque sia emulatore e non ho ovviamente nessuno con un Nintendo 3DS da potermi prestare o comunque sia io da poter rubare direttamente per farci una guida quindi Squirtle sale a livello 7 credo che mi sembra l'8 in paribolla mi pare ora non mi vorrei sbagliare e la cosa ecco la guarda PG fatto malissimo la cosa veramente obriubriosa di questo gioco che non possiamo correre quindi fino a quando non avremo la bicicletta tra l'altro non selezionabile direttamente con il tasto select dovremo camminare che bella cosa quindi veramente ci metteremo anni luce per per arrivare alla l'indigo plateau alla lega pokemon ma va bene lo stesso comunque sia una volta che arriviamo a Smeraldopoli boom si blocca andiamo direttamente a pokemon center e qui utilizzerò la velocità ipertripla vedete che boom è troppo veloce tanto ci mettiamo veramente tanto e a questo punto possiamo andare sia al pokemon market che possiamo esplorare la parte nord diciamo di Smeraldopoli in questa casa non ci sarà niente e vi faccio vedere che con questo uomo ha mangiato tanto e non ci farà passare è disteso boh vabbè questa qua è una palestra è la palestra di Smeraldopoli che penso che ormai voi tutti sappiate chi sarà appunto il capolestra ma non ve lo dico perché appunto è un segreto anche per chi magari non ha mai giocato a questo gioco qua una volta c'era uno strumento eccolo fatti una pozione perfetto nell'albero dove possiamo tagliarlo con il taglio e da questa parte potremmo sfidare blu però lo vorrò sfidare nella no non ora non ora di qua si va verso la lega pokemon e dopo potremo sfidare anche blu il problema è che al momento abbiamo solo squirtle a livello 7 e lui mi sembra che catturi anche un pg comunque sia una volta entrati al pokemon market ci dirà che il commesso se veniamo da biancavilla perché appunto è arrivato un pacco per il professor rock e ci chiede di consegnarglielo quindi dobbiamo riprendere la strada verso biancavilla e ritornare appunto alla casa base quindi rifacciamo tutto il percorso stavolta evitando questi pokemon selvatici saltiamo da questi blocchi di di altre che poi questa cosa non è mai capita perché non può rifare così non lo so potrebbe scalarlo comunque sia ritorniamo a biancavilla entriamo dentro al laboratorio del professor rock rocket era dexter e una volta che ci parliamo dice oh esci come sta il mio vecchio pokemon beh se mi piace di molto ovviamente ovviamente di avere talento come allenatore di pokemon cosa hai qualcosa per me esatto consegniamo il pacco per il professor rock che è la pokemon speciale che ha ordinato e tutti noi sappiamo di che pokemon pokemon che pokemon si tratta è la master ball prodotta dalla silp spa che tra l'altro se leggete l'anime o comunque sia se leggete il manga e guardate l'anime praticamente è una pokemon veramente cattiva la disegnano perché è in grado di catturare qualsiasi pokemon tra l'altro nell'anime anche più di uno alla volta e così ecco rendere pokemon quasi tipo schiavi è disegnata veramente come una cosa malvagia comunque sia il professor rock ci dice che è venuto il tempo per noi di utilizzare il pokédex infatti come vedete nella parte sinistra del vostro schermo non ci sono più perché appunto ce li ha dati e ci dà una missione riuscire a catturare tutti i 151 pokemon tecnicamente sarebbero 149 e comunque sia una volta catturati finire il pokédex cosa che lui non ha mai fatto dico 149 perché Mewtwo e Mew ancora tecnicamente non sono stati scoperti li vedremo più avanti nella storia anche se noi veramente sappiamo che ci sono comunque sia penso che la prima parte possa terminare qua dopo la sfida con questa errata da livello 3 utilizziamo azione di nuovo ok tanto non possiamo catturare nessun pokemon almeno per ora volevo far arrivare squirto a livello 8 almeno da fargli imparare la mossa bolla però non so se ce la facciamo per l'8 cioè a salire di livello no infatti allora arriviamo a Smeraldopoli e comunque sia la parte si conclude qui la prima parte spero che vi sia appunto piaciuta episodio di domenica oggi vediamo un po' se mi riesce oh ok vediamo un po' ecco se riusciamo a raggiungere almeno almeno i 25 mi piace boh non lo so perché l'ho detto 25 dai 25 ce la facciamo bene mi fido di voi e spero che ce la facciamo ecco spero che questa guida almeno prima parte vi sia piaciuta come al solito vi dico votate commentate iscrivetevi io vi lascio a Smeraldopoli un ciao alla prossima ciao ragazzi